Buongiorno da Carmine Albanese, ultimora novità sull'omicidio a San Severo. Ci sarebbe un testimone oculare dell'omicidio di Francesco Pio D'Augelli, ragazzo di 17 anni ucciso da una coltellata sferrata da un quindicenne a San Severo domenica sera. L'indagato infatti si è costituito ai carabinieri ed ha confessato davanti al PM il nome di un testimone. Il quindicenne ha anche confessato che avrebbe agito per difendersi in seguito ad un colpo al viso ricevuto prima della coltellata fatale inferta alla vittima. Pomarico, nuora frana, ancora uno smottamento nel comune di Pomarico, nel Materano, causato questa volta da una perdita d'acqua nel sottosuolo. Sei persone sono state evacuate e si è ribaltato un piccolo escavatore. Sono tre le abitazioni inagibili che si trovano tra via Largo, via Gelso e via Eraclea ma fortunatamente non ci sono state vittime. Il comune era già stato interessato da una grande frana nel gennaio 2019. Amarezza della famiglia Claps sulla chiesa della Trinità. In seguito alla decisione del Vescovo Ligorio di riaprire la chiesa della Trinità, la famiglia Claps in una nota annuncia tutta la rabbia e l'amarezza per l'ipocrisia e la meschinità di chi dovrebbe fare del rispetto del prossimo e della verità una missione di vita, dicono i Claps. Non una parola viene spesa per Elisa, non una considerazione per le ferite inferte ad una famiglia che ha atteso 17 anni. Sono le parole della famiglia di Elisa Claps, ragazza potentina, scomparsa il 12 settembre 1993 e ritrovata cadavere il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza. Radio Potenza Centrale in piazza contro la violenza sulle donne. A partire da questo pomeriggio in piazza Matteotti a Potenza torna l'evento Una città per cambiare insieme contro la violenza sulle donne. Uno show caratterizzato dalla musica ma con l'attenzione su questa piaga sociale. Saranno infatti raccolti dei fondi a sostegno del progetto Valigia di Salvataggio per non tornare indietro dell'associazione Salva Mamme. Anche la nostra emittente sarà presente in piazza con la conduzione in diretta del pomeriggio insieme da parte di Carmine Albix e Ilaria dalle 15 alle 18. Da Carmine Albanese è tutto, aggiornamenti alla prossima edizione. Radio Potenza Centrale Notizie